Il mese di ottobre il cosiddetto Mese Rosa ha dedicato alla prevenzione con attività di screening mammografici per le donne. Le iniziative rientrano nell'ambito della campagna nazionale Lilt for Women 2022. La novità di quest'anno la sperimentazione di screening oncologici nelle donne a lavoro anche nello stabilimento Stellantis. A Termoli, proprio sul tema della prevenzione, un incontro nutrito di relatori e pubblico per mettere in luce le problematiche derivanti dal tumore alla mammella, ma anche l'importanza della prevenzione che rimane uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro il tumore. Appuntamento ormai oltre che quindicinale, quella della Lilt e della prevenzione del tumore della mammella che quest'anno, grazie alla collaborazione con gli screening oncologici regionali, siamo riusciti a allargare anche i tumori del collo dell'utero e i tumori del retto corno. Infatti abbiamo in fabbrica alla Stellantis FIA abbiamo fatto un'azione di prevenzione un po' di massa. Oggi stiamo ritornando sul tema degli screening oncologici e quello che si deve fare come prevenzione primaria con la dieta, col movimento e secondaria con l'adesione agli screening, quindi alla mammografia, al pap test e al sangue che ho accolto nelle feci per contrastare i tumori all'insorgere. Se è possibile non farli verificare, se si verifichano di prenderli appena, come si suol dire, appena nascono, cioè in una fase in cui la terapia è veramente curativa, completamente curativa. E poi il legame tra lo screening e l'alimentazione? Allora l'alimentazione riveste un ruolo fondamentale per la prevenzione oncologica. Ormai la letteratura è piena di studi che ci danno conferma di questo. L'alimentazione sana rientra in quello che è il corretto stile di vita ed è fondamentale per la prevenzione primaria, quindi insieme agli screening rappresenta uno dei fondamenti appunto della prevenzione. Fortunatamente non si registra un'emergenza sul territorio molisano. Un'emergenza sul territorio francamente non la vedo, nel senso che è comunque un problema perché stiamo parlando di malattie importanti, serie, che hanno bisogno di essere gestite in modo adeguato, sia da un punto di vista diagnostico che da un punto di vista della terapia. Sappiamo che in questo periodo stiamo soffrendo molto per gli aspetti della diagnosi perché gli ospedali sono stati sostanzialmente chiusi per quasi due anni e si fa fatica a recuperare la normale attività. Però non ci sono numeri che lasciano intravedere problematiche particolari per la nostra regione. Grazie. 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 Grazie.